L'esame del DNA cancella di nuovo il nome di Bruno Umberto Damiani dalla cima della lista dei possibili assassini del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Il test è infatti ripetuto il mese scorso per la seconda volta in sette anni di indagini su ben 95 persone, scaggionerebbe il brasiliano da ogni accusa. Il condizionale è d'obbligo, in quanto il suo legale difensore, l'avvocato Michele Sarno, è in attesa del deposito ufficiale degli atti prima di richiedere ufficialmente alla procura di Salerno la rimozione dal registro degli indagati del nome di Damiani, che ha professato la sua innocenza dal primo momento. Il giorno del delitto, avvenuto il 5 settembre del 2010, Damiani fu subito sottoposto all'esame dello stube del DNA, entrambi con esito negativo. In realtà vi sono almeno altri tre soggetti fortemente indiziati del brutale omicidio del sindaco Pescatore, sulla cui identità vige però stretto riservo. Le indagini dunque non si sono mai fermate, ma l'ulteriore proroga scadrà agli inizi del 2018. Per quella data gli inquirenti dovranno avere in mano a questo punto qualcosa di più concreto per poter proseguire un filone investigativo avaro, finora di prove o testimonianze schiaccianti. Damiani, dal giorno del rientro della Columbia, è stato interrogato ben cinque volte dai magistrati, insospettiti dal fatto che pochi giorni dopo l'assassino il brasiliano volò proprio in Brasile, facendo perdere le proprie tracce per poi essere scovato ed estradiato dalle autorità di Bogotà. Se gli atti confermeranno la non presenza del suo codice genetico, tra quelli rinvenuti in maniera non giustificata sul luogo del delitto, lo spietato killer di Angelo Vassallo, trucidato nella sua auto con nove colpi di pistola, resterà ancora senza nome e avvolto nel mistero.